Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò i prodotti che vendo, tra cui Xbox, giochi per Xbox, controller per Xbox e giochi per Playstation 3. Qua potete vedere l'Xbox in scatola originale da 250 GB, senza neanche un graffio e perfettamente funzionante. Nella scatola troverete anche l'adattatore per l'entrata SCART, con l'entrata cavo composito, il cavo composito appunto e libretteria varia. E naturalmente troverete anche un controller nero, perfettamente funzionante. Qua potete vedere tutto l'insieme, escluso il controller e la scatola. Inoltre vendo anche un controller personalizzato allo 4, quello bianco non è più disponibile. Eccolo qua. Questi sono i giochi per Xbox che vendo. FIFA 13, Darkstar 1 Broken Alliance, UDRAV Studio con tavoletta e Sony Call Star Racing Transformed. NEDFOR SPEED non ce l'ho più, l'ho già venduto. Qua potete vedere nello specifico UDRAV Studio con la tavoletta. Vendo anche dei giochi per Playstation 3. FIFA 13, PES 2012, NEDFOR SPEED SHIFT, Grand Theft Auto 4 e Grand Theft Auto Liberty City. Ma nello specifico due episodi che si intitolano The Lost and Damned and The Ballard of Gay Tony. Non so se l'ho pronunciato bene perché il mio anglese fa schifo, però più o meno è quello. Ma ragazzi, se siete interessati scrivetemi al mio indirizzo email che vedete qua nel video. Ah, e dimenticavo di dirvi anche che se volete potete acquistare anche pezzi singoli naturalmente. Ad esempio soltanto giochi per Xbox, soltanto l'Xbox e così via. Ciao, spero che siete interessati. Ciao a tutti, grazie alla visione.